Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e lodare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yehawah nel nome di suo figlio, il nostro re, rendentore, salvatore Yehawah Shai. Ok? Mi do più onori agli apostoli della Great New Stone per avermi insegnato questa verità e come sempre pace e i miei saluti alla Casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano la verità e con sincerità spargono questa verità affinché possa arrivare ai quattro punti della terra. La lezione, questa lezione sarà basata sulla ripartizione del libro di Apocalisse. Avevo già iniziato nel video precedente che parla della Prima Guerra Mondiale, perciò per saperne un po' di più ho dato una sorta di introduzione al libro di Apocalisse. Sì, questa sarà la ripartizione del libro di Apocalisse capitolo 5. Iniziamo da capitolo 5 perché i primi capitoli sono abbastanza facili da capire. Allora, se guardate spesso i video che faccio, notate che spesso dico che ce ne sono 144.000 letti della Casa di Israele che saranno salvati e in più un terzo della Casa di Israele. Due terzi saranno distrutti con i malvagi perché sono complici e hanno scelto il sistema dei malvagi anziché la verità che è questa qui. Ok, e ho sempre nominato che questa verità non ce l'ha la Chiesa, non ce l'ha nessun'altra religione, non c'è, non c'è. Siamo solamente noi della Great Mewstone che abbiamo questa verità e grazie a Yehovah Hashem Yehovah Shai questa verità si sta spargendo dappertutto. Abbiamo membri dappertutto il mondo, non teniamo la Chiesa, le nostre Chiese siamo noi e andiamo per le strade ad insegnare, ok? E facciamo dei video, usiamo un sacco questo YouTube per portare il messaggio, ok? E si vede che il Padre Yehovah Hashem Yehovah Shai ha fatto tutto questo affinché il messaggio possa arrivare a casa di tutti, ok? Ce ne sono altri gruppi degli ebrei, ok? Diciamo che hanno più o meno stessi messaggi come noi, ok? Ma quello che ho notato è che non hanno la completezza, non hanno la completezza, ok? Perciò non sto dicendo questo per dirvi ascoltateci e non ascoltate nessuno, ma la verità sarebbe quello, ascoltateci e non ascoltate gli altri, ok? Perché la verità ce l'abbiamo noi e lo spirito detesta questo, ok? E infatti i messaggi che noi facciamo non arriverà al tutto popolo, non arriverà a tantissima gente, arriverà a pochi Perché è stretta, è la strada che porta la vita eterna e larga è quella che porta alla distruzione, ok? E per non perdere altro tempo, inizio Versetto 1, libro di Apocalisse, capitolo 5 Vedi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigili, ok? Questo è Giovanni che gli è stata data questa visione Questa visione Ok? Sta parlando Questo libro Sta parlando di questa scrittura qui La Bibbia, ok? Questa Bibbia era sigillata per tanti anni E nessuno poteva capire Infatti tutte le chiese hanno fatto tutto quello che hanno voluto Fino ad ora Ognuno ha interpretato la scrittura a modo suo Ok? Vedi alla destra di colui che sedeva sul trono Questo è il padre che sedeva sul trono Ok? Questo è il padre che sedeva sul trono E questi sette sigilli rappresentano Il numero assente Rappresenta il numero di complessione Come si dice Il numero di complessione Ok? E vede un angelo potente che gridava a gran voce Chi è degno di aprire il libro E di sciogliere il sigillo Ok? Di sciogliere i sigilli Ma nessuno né in cielo Né sulla terra Né sotto la terra Poteva aprire il libro Né guardarlo E per darvi un precetto Che questo libro è la scrittura È questa sacra bibbia qui Ok? E questo vuol dire che questo libro Ce l'avevamo qui Ma Non la capivamo Ok? Ci voleva qualcuno A doverlo sbloccare Affinché Noi possiamo avere Questa verità La sua completezza Oggi Anzi Andiamo a vedere Dal libro di Ezechiele Libro di Ezechiele Capitolo 2 Versetto 19 No? Versetto 9 Scusatemi Lo guardai ed ecco Una mano stava stesa Stesa verso di me Lo guardai ed ecco Una mano stava stesa Verso di me La quale teneva il rotolo di un libro Questo libro è la Bibbia Lo srotolò davanti a me Era scritto di dentro e di fuori E conteneva lamentazioni Gemiti e guai Infatti La gente dice che la Bibbia è il libro buono La Bibbia è il libro buono Sì è un libro buono Comunque non contiene solamente cose buone Contiene lamentazioni Gemiti e guai Ok? E questo libro Di che sta parlando È la Bibbia Ora torniamo E il motivo Vi faccio vedere di nuovo Il motivo perché Noi Vi facciamo Sì Insegniamo Facendo Prendendo un po' Da un versetto all'altro È scritto nel libro di Isaia Mi sa Sessantasei No Ventotto Dieci Allora Il libro Di Isaia Ventotto Il capitolo dieci Che dice A chi vuoi dare A chi vuol dare insegnamenti A chi vuol far capire la lezione A dei bambini appena diventati Staccati dalle mammele Questo vuol dire A coloro Che si sono staccati dal mondo Ok? Poiché È un continuo Dar precetto Dopo precetto Ok? Precetto Dopo precetto Regola Dopo regola Dopo regola Un po' qui Un po' là Ok? Avete capito? Ebbene Sarà mediante Labbra Balbusienti E mediante Una lingua straniera Che il Signore Parlerà A questo popolo Avete capito? E infatti Noi portiamo il nome Vero Del padre Che è tutto Di un'altra lingua Che la gente Nemmeno noi Avevamo sentito Mai Ok? E avete visto Qui si dice Regola dopo regola Un po' qui Un po' là E così Possiamo dare Lezione Ora Torniamo Scusatemi Ora Torniamo E noi Non siamo Nemmeno Professori O insegnanti Perfetti Come Come la chiesa Vuole Tutti belli Vestiti Bellissimo E infatti Non ho le parole Giuste Per spiegare Sono uno Con poche parole Il padre Fa il suo lavoro Così Ok? Non ha bisogno Di grandissime cose Come aveva usato Anche Mosè Che era uno Che balbertava No? L'ha usato Per liberare I figli di Israele Dalle mani Di Di Egitto Antico Ok? O del faraone Ok? E diceva Padre Ma Perché Ma di me Che non Sono bravo A parlare E così Il padre Fa i suoi I suoi lavori Attraverso Gente Gente I più bassi Della società Che la gente Guarda come nulla Ok? Ecco Ora abbiamo capito Che questo libro Si parlava Della Bibbia Ok? Vedi nella destra Di colui che sedeva Sul trono Un libro scritto Di dentro E di fuori Sigillato Con sette sigili E vedi Un angelo potente Che gridava A gran voce Chi è degno Di aprire il libro E di sciogli E di sciogli I sigili Ma nessuno Né in cielo Né sulla terra Né sotto la terra Poteva aprire il libro Né guardarlo Ok? Io piangevo molto Perché Non si era trovato Nessuno Che fosse degno Di aprire il libro E di guardarlo Quindi Questa Bibbia Nessuno Poteva aprirlo Perché Sì Spiritualmente Si intende Noi fisicamente Lo potevamo aprire Infatti Non potevamo capire Quello che è dentro Io mi ricordo Tanti anni fa Ho sempre letto la Bibbia Come una sorta Di libro Di Di rivettimento Così Ho tentato un po' Ma Non Non mi faceva senso Non mi Non mi dava niente E questa è la stessa cosa Per altre tante persone Studiano le scritture Ma Non gli torna niente Sembra tutto un libro Di antichità Che Boh Non si capisce Non si capisce Diciamo la verità Ma ora La conoscenza È stato dato Attraverso Il figlio del padre Che si chiama Yahawashai Colui che in mondo Dall'ignoranza Chiama Gesù Ok Lui è venuto sulla terra Ha vissuto una vita Perfetta Ok È stato il sacrificio Perfetto Per poter Aprire questo libro Per darci di nuovo La conoscenza Infatti Infatti Lui Quando era sulla terra Con i suoi discepoli I discepoli Nemmeno capivano Le scritture Dopo la sua morte Quando è risuscitato Dopo tre giorni Allora è tornato E gli ha dato La conoscenza Per capire Ed è in questo momento Che succede questo Continuiamo a leggere Io piangevo molto Perché non si era trovato Nessuno Che fosse degno Di aprire il libro E di guardarlo Ma uno degli anziani Mi disse Non piangere Ecco il leone Della tribù Di Giuda La radice di Davide Ha vinto Per aprire il libro E i suoi sette sigili Avete capito? Questo sta parlando Del figlio del padre Yahawashai Colui che è stato Crucifisso Ok Lui È la radice di Davide Mi ho fatto già un video Riguarda Riguarda la sua vita Riguarda Anche la rincarnazione Che è la stessa persona Come il re Salomone E come Isacco Basta tornare dietro A vedere i video Che ho fatto Riguardo Sulla rincarnazione Biblica Ok Perciò Qui avete capito Che è lui Ok Ha vinto Per aprire il libro E i suoi sette sigili I sette sigili Rappresenta Completezza Ok Poi vedi In mezzo al trono E alle quattro creature viventi E in mezzo agli anziani Un agnello in piedi Che sembrava essere stato immollato E aveva sette corna E sette occhi Che sono i sette spiriti De Yahweh Ok Questo agnello Rappresentava Sempre lui Lui è rappresentato Con due animali Nelle scritture È rappresentato Sia come il leone Della tribù di Giuda È come l'agnello Agnello perché è stato il sacrificio Leone della tribù di Giuda Perché è della radice Della tribù di Giuda Ed è Il nostro potere È lui che guiderà Il nuovo Il nuovo regno Ad avverire Allora è il leone In questo senso qui Perciò Si parla della stessa persona Che è il figlio del padre Yahweh Un agnello in piedi Che sembrava essere stato immollato Che sembrava essere stato Immollato E aveva sette corna Queste sette corna I sette occhi Rappresentano Potere e completezza Ok I sette spiriti I sette occhi Che sono i sette spiriti Del padre Yahweh Mandati per tutta la terra Ok Egli venne E prese il libro Dalla destra Di colui Che sedeva sul trono Ok Padre Yahweh Quando ebbe preso il libro Le quattro creature viventi E i ventiquattro anziani Si postrarono Davanti all'anelo Ok Ciascuno con Una Cetra E delle coppe D'oro Piene di profumi Anzi Questi Questi Ventiquattro anziani E quattro creature Questo padre è talmente così grande Che noi non possiamo immaginare Che lui davanti al suo trono Ha ventiquattro anziani E ha queste creature Creati solo per adorarlo E continuano ad adorarlo Tutto Tutto il tempo Sempre Ok Questa è la grandezza del padre E noi non siamo nemmeno degni Non siamo degni Di vederlo Di avvicinarlo Di Di nemmeno menzionare il suo nome Ecco perché Per arrivare a lui Dobbiamo fare tutto Attraverso il suo figlio Yahweh Che anche i suoi figli E non siamo nemmeno tanto degni Ok Essendo che Abbiamo accettato anche noi La sua crucifissione Ok Abbiamo peccato Siamo stati sviati Siamo stati Nella perdizione Ok Ma Ecco per arrivare al padre Dobbiamo fare tutto Attraverso il suo figlio Yahweh Ok E diceva 24 anziani Si postrarono Davanti all'agnello Che è figlio del padre Yahweh Ciascuno Con una cetra E delle coppe d'oro Piene Di profumi Che sono le preghiere Dei santi Ok Chi sono i santi Ne ho già fatto un video In passato Ok Che vi fa vedere Che i figli di Israele Sono i santi Ok Noi quando preghiamo I nostri preghiere Vanno su Ok Vanno raccolti Dentro questo bicchiere Ok Da questi 24 anziani E le quattro creature E vanno portati Al padre Presentati al padre Come profumo Ok Così arriva Le nostre preghiere Al padre Ma dobbiamo pregare Con i nomi giusti Ok Pregare Chiamando il nome Del figlio giusto Il nome del padre giusto Ok Ora vi tiro fuori Un paio di Un paio di precepti Per farvi vedere Che questi santi La parola santi Anzi La parola santi Che vedete qua Il preghiere dei santi Rappresenta Israele Ok E si trova Nei libri di salmi Leggo prima Dal capitolo 50 Ok E nel versetto 5 Radunatemi Dice I miei fedeli Radunatevi Dice I miei fedeli Che hanno fatto Con me Un patto Mediante Il sacrificio I cieli Procameranno La mia giustizia Perché Yahweh stesso Sta per giudicare Ascolta Popolo mio E io parlerò Ascolta Israele E io testimonierò Contro di te Io sono Yahweh Il tuo Dio Ok E Infatti Se andiamo a vedere Se andiamo a vedere Un'altra versione Questa parola I miei fedeli Invece I fedeli Sarà I miei santi Anzi Andiamo a vedere Altra versione Vediamo La Dio Dio dati Ok Anche questo Dice I miei Fedeli I miei fedeli Sembra che nessuna Proprio Questa Ecco Vedete Questa versione dice Adonatemi I miei santi Avete visto I miei santi Ecco il motivo Un altro motivo Perché Bisogno Conoscere bene Le scritture E Guardare Diverse versioni Ok La parola qui È I miei santi E avete visto E i cieli Racconteranno La sua giustizia Per ciò Che è lì E lì Dio giudice Ascolta Popolo mio E io parlerò Ascolta Israele E io Ti farò Le mie Protestazioni Avete capito Chi è il suo popolo Israele E chi sono Ha fatto i pato I suoi santi Ok I suoi santi Sono i figli Di Israele E Per Dare Concretezza A questo versetto Andiamo anche a leggere I 148 148 Ok Versetto 13 Che dice L'ordino Il nome del Signore Perciò che il nome Di Lui Solo è innalzato La sua maestà È sopra la terra È sopra il cielo Ed ha alzato Un corno Al suo popolo Ok Il che è materia Di gloria A tutti i suoi santi Ok Il suo popolo Ai suoi santi Ok A figlioli Di Israele Il suo popolo Prossimo Avete capito Perciò Questi santi Sono i figlioli Di Israele Il suo popolo Prossimo Ora possiamo Tornare Nel libro Di Apocalisse Così Avete capito Che qui Nel versetto Siamo arrivati Anzi Torno Nella versione Nuova riveduta 94 Ok Ecco Quando arriviamo qui Quando aveva preso Il libro Le quattro creature Viventi 24 Anziani Si postrarono Davanti All'agnello Ciascuno Con una Cettra E delle coppe D'oro Piene Di profumi Che sono Le preghiere Dei santi Ok Le preghiere Dei figli Di Israele Ok Essi Cantavano Un cantico Nuovo Dicendo Tu sei Tu sei Non eravamo Non eravamo Più Degni Di quel libro La Che è la Bibbia Perché sei stato Immolato E hai Acquistato A Yahawa Con il tuo sangue Gente Gente di ogni Tribù Perché come sapete Abbiamo visto Già Nel libro Di Isaia In diversi libri Abbiamo visto Che il popolo Dei padre Israele Non ha mai avuto Nulla a che fare Con altri Anzi Libro Di Libro Di Amos Se non sbaglio Capitolo 3 Avete visto Versetto I 1 Che dice Ascoltate Questa parola Che il Signore Pronuncia Contro di voi O figli Di Israele Contro tutta La famiglia Che io Ho condotto Fuori dal paese D'Egitto Ok E sono i figli Di Israele Voi soli Ho conosciuto Tutte le famiglie Della terra Perciò Vi castigherò Per tutte le vostre Trasgressioni Avete visto Il padre Conosce Solamente I figli Di Israele Per l'ennesima Volta E Per farvi Vedere Che qui Scusatemi Mi sono perso Di nuovo Mi sa Qui Ok Scusatemi Mi sono Mi sono perso Ok Per farvi vedere Che qui Gente di ogni Tribù Lingua Popolo E nazione Sta parlando Di Israele Ok La risposta È in capitolo 7 Ok Sempre del libro Di Apocalisse Andiamo a vedere Versetto 4 Che dice E udì Numero di coloro Che furono segnati Con il sigillo 144.000 Segnati Di tutte le tribù Dei figli Di Israele Avete visto E poi Continua a dirvi Della tribù Di Giuda 12.000 Segnati Perciò Ogni tribù Se continuate a leggere Tutte le tribù Di Israele Intende Ok 12.000 Sono segnati Sigillati E fa In totale 144.000 Letti Ok Perciò Quando vedete Questo versetto Che dice Con i tuoi Sangue Gente di ogni Tribù Sei stato Immolato E hai acquistato Iahawa Con il tuo sangue Gente di ogni Tribù Lingua Popolo E nazione Si intende Dei figli Di Israele Ok Coloro Che capiranno Capiranno E Sono Coloro Che capiranno Faranno parte Sono parte Degli eletti Infatti Questo messaggio Non è per tutti Vi ho mostrato Già Un po' Di Libri Per Darvi La prova Che qui Si intende Perché le chiese Si aggrappano A queste cose Dicono La salvezza È per tutti Ma no La salvezza Non è per tutti Vi ho fatto vedere Già Andiamo avanti E ne hai fatto Per il nostro Potere Iahawa Un regno Dei sacerdoti E regneranno Sulla terra Un regno Dei sacerdoti Chi sono Questi Il regno Dei sacerdoti Sono i figli Di israele Questo Lo potete Trovare Anche nel libro Di essodo Ora andiamo A vedere Mi sa Libro di essodo Mi sa Scusatemi Aspettate un attimo Diciannove Ok Versetto Quattro Voi avete visto Quello che ho fatto Agiziani E come vi ho portato Sopra Ali di Aquila E vi ho condotto A me Dunque Se Ubbidiete Davvero Alla mia voce Osevate Al mio pato Sarete Fra tutti Popolo Il mio Tesoro Particolare Poiché Tutta la terra E mia E mi sarete Un regno Di sacerdoti Una nazione Santa Avete visto Queste sono Le parole Che dirai Ai figli Di israele Avete visto Un regno Di sacerdoti Perciò Per l'ennesima Volta Attraverso Il potere Del padre Yehawah Bahashem Yehawah Shai Sono riuscito A farvi vedere Lo stesso Di nuovo Che qui Sta parlando Dei figli Di israele Ok Ora torniamo E leggiamo Da qui Così Si Collega Tutto E si cantavano Un cantico Nuovo Dicendo Tu sei Degno Di prendere Il libro Che è la Bibbia E di aprire Il sigillo Che è la conoscenza Che ha dato Ai figli Di israele E soprattutto Anzi Ai suoi profetti Ok Ai suoi seguitori Ok Iniziando Dalla Casa Della Great New Stone Ok Agli apostoli Anziani Della Great New Stone Ok Perché sei stato Immolato E hai acquistato A Yahweh Il nostro potere Con il tuo sangue Regente Di ogni tribù Lingua Popoli Nazioni Che sono Le dodici tribù Di israele Sparsi Da per tutte In nazione E ne hai fatto Per il nostro Potere Yahweh Un regno Dei sacerdoti Che sono I figli Di israele E regneranno Sulla terra Ed è questo Che sarà Quando Tornerai Figlio A regnare Prima Verrà A distruggere I malvagi Poi Regnerà Sulla terra Ok E noi Saremo A suo fianco A regnare Con lui Ok E vidi E udì Voci Di molti Angeli Intorno Al trono Alle creature Viventi E agli Anziani Il loro Numero Era di Miriadi Di miriadi E migliaia Di migliaia Il padre È grandissimo È fuori Dalla Cioè Non possiamo Contenere La nostra mente Non può Contenere Ecco perché Le vostre chiese Non importa Qualsiasi chiesa Che appartenete Dovete venire Fuori Subito Perché Novo Ok Perciò figli Di Israele Venite fuori Da questo Calice Di confusione Della Babilonia Ok Andiamo Andiamo avanti Andiamo avanti E vedi e udì voci Di molti Angeli Intorno Al trono Alle creature Viventi E agli Anziani Il loro Numero Era di Miriadi Di Miriadi E Migliaia Di Migliaia Essi Dicevano A gran Voce Degno È L'Agnelo Che è Stato Immolato Di ricevere La potenza Le ricchezze La sapienza La forza L'onore La gloria E la lode Ok E tutte le creature Che sono nel cielo Sulla terra Sotto la terra E nel mare E tutte le cose Che sono in essi Udì E dicevano A colui Che siede Sul trono E all'anelo Siano La lode L'onore La gloria E la potenza Nei secoli Dei secoli Le quattro Creature Viventi Dicevano Aman E questa parola Amen È tutta un'altra Lezione da fare È stato cambiato La vera parola In ebraico Antico È Aman E gli anziani Si postrarono E adorarono Ok Perciò Avete visto Che Libro Di Apocalisse Cinque Parla Della conoscenza Della Bibbia Ok Per tanti anni Nessuno Solamente I profetti Che sono stati Ispirati Dal Padre Anzi A quell'epoca Le loro storie E compilavano Le Bibbie La gente Avevano Solamente Come si dice I comandamenti Ok Di cui Non rispettavano Nemmeno Tutto Dopo Sono stati portati E sparsi In tutte le nazioni Hanno cominciato A seguire Le tradizioni Degli altri E hanno dimenticato Queste cose Qui E i figli Di Esau Hanno preso Tutto Il padre È grande Perché Se i figli Di Esau Avevano La vera Conoscenza Di queste Scritture Non ce L'avremo Noi Oggi Vi lo posso Garantire Non ce L'avremo Perciò Il padre Li ha Confuso Affinché Nessuno Poteva Avere Questa Conoscenza Nemmeno Le chiese Nemmeno Nessuno Fino A un certo Tempo Che Quando Il suo Figlio È venuto E dopo La sua Morte Infatti È successo Tutto Questo Che abbiamo Letto Qui Ok Nei tre Giorni Prima La sua Resurrezione È stato Lui Che è Stato Qui Davanti Al padre E Ha Aperto Il sigillo Che era Sul libro Per capirlo Ok Io Spero Che Siete Stati Edificati Da Questa Lezione Spero Che Abbiate Imparato Qualcosa Ok Lascio Tutto Questo Nel Sacro Nome Del Padre Yahweh Nel Nome Sacro Del Suo Figlio Yahweh Shai Il Nostro Re Salvatore Rendentore Miei doppi onori Agli Apostoli Della Great New Stone GMS Per avermi insegnato Questa verità E come sempre Saluti E pace Alla Casa D'Israele Shalawan Alla Prossima D'Israele